Santa Maria, la tua Abba silenziosa, profumata dal giorno di maggio, solitudine di vita che si apre del dito. Il mio percorso spirituale nella figura di Donna Santa per poter vivere in ragazza per il domani. In quel maggio non c'è stato, ma l'inuncio di un percorso eterno, profumo di patina. Forse domani la mia poesia prenderà il volo per raggiungere Torino, la pace di un vento tempo per vivere un volo con la forza della vita. Grazie.